In Valdichiana, dall'azienda di Dante Moretti di Pievaltoppo, coordinatore per il territorio della Valdichiana di questo progetto, parte oggi il primo lancio a livello regionale dell'Anastatus bifasciatus, l'insetto antagonista della cimice asiatica, uno strumento biologico. Sono circa 500 ettari interessati, in prevalenza di pesche, mele e pere. Un progetto iniziato lo scorso anno con lo studio di fattibilità dopo i pesanti danni da cimice asiatica. Dante Moretti, allora che cos'è questa celebre ormai tra virgolette cimice asiatica? Lo vogliamo spiegare anche ai nostri telespettatori? Io come celebritra prenderei qualcosa del mondo dello spettacolo, perché la cimice asiatica è un flagello, un flagello per le aziende agricole, aziende frutticole, ortofrutticole. È un insetto dannosissimo perché si sciba di circa 300 specie di fruttiferi e vegetali, specie di vegetali, quindi è importante combatterla. La chimica non ce la fa, questo progetto che è partito anno scorso, che ha lanciato anche col diretti, e che comunque quest'anno vede l'inizio di un percorso di lancio di Anastatus, che è questo piccolo insettino che va a deporre l'uovo, la larva, sull'uovo della cimice. Quindi dove la cimice depone le uova lui la va a cercare e all'interno dell'uovo ci depone la propria larvettina che si sciba dell'uovo e poi ridà origine all'Anastatus e quindi non abbiamo un aumento della cimice, ma speriamo di contenerla. Oggi è un lancio importante perché qui in queste 21 aziende viene lanciato oltre 50.000 di questi insettini che sono già presenti nel territorio, sono presenti nel territorio perché è un insetto autottono. Noi andiamo ad aumentare questa popolazione per vedere di contrastare biologicamente la cimice asiatica. Quello che ci interessa sottolineare è il grande sforzo che viene fatto da parte della struttura e delle aziende agricole perché noi la assistiamo con la consulenza tecnica, ma soprattutto delle aziende agricole perché praticamente è uno sforzo che fanno privatamente per cercare di contrastare questo problema che si spera possa rimanere circoscritto. Quindi è una sorta di servizio pubblico che fanno le imprese anche per la collivettività agricola, diciamo così, ma anche per il consumatore perché ricordiamo che queste operazioni contribuiscono a ridurre e di molto l'impiego dei prodotti di sintesi chimica. Possiamo chiederle qual è il danno che fa questa cimice esattamente? Il danno della cimice asiatica è un danno di tipo diretto perché la cimice ha un apparato boccale pungente, succhiante e quindi aspira i liquidi che sono presenti all'interno dei frutti e quindi c'è una riduzione della produzione, ma non è tanto questo, è che la puntura nel momento in cui viene fatta con questo apparato boccale rilascia anche delle tossine che vanno poi a degradare il frutto, quindi a volte ci sono, spesso sembra che ci sia poco o niente di danno, in realtà se vai a tagliare la buccia della mela o della pera o della pesca sotto è completamente invasa da questi prodotti del metabolismo dell'insetto che la rendono il frutto non commercializzabile.